Benvenuti, nel video di oggi parleremo di Elettra Lamborghini e le sue pesanti dichiarazioni. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Con grande orgoglio, Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram due foto in costume, esibendo i risultati del suo impegno nella preparazione fisica per il tour estivo. Dedicandosi a uno stile di vita più sano, ha perso 7 chili nel corso di alcuni mesi. Tuttavia, le reazioni sono state diverse, mentre molti ammirano la sua bellezza e l'impegno profuso, altri hanno commentato che ora appare troppo magra e che preferivano la sua forma precedente. In risposta a tali critiche, Elettra ha condiviso storie spiegando che il suo cambiamento è stato graduale e motivato principalmente dal lavoro. La cantante ha chiarito di aver raggiunto il risultato con costanza e dedizione, senza ricorrere a diete miracolose o trattamenti estremi. Ha spiegato di essersi semplicemente allenata intensamente, più volte al giorno, rinunciando a tentazioni culinarie e mantenendo un controllo rigoroso sull'alimentazione. Elettra ha anche voluto sottolineare l'importanza di accettare se stessi e il proprio corpo, senza lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui. Ha esortato le persone a concentrarsi sulla salute e sul benessere, piuttosto che sulle apparenze superficiali. La cantante ha anche risposto alle richieste di consigli sulla dieta, sottolineando che non è una nutrizionista e preferisce non influenzare i giovani con consigli non professionali. Ha spiegato che ha sperimentato diverse strade e, infine, ha trovato un metodo che funziona per lei, basato spesso su alimenti di origine vegetale. In conclusione, Elettra Lamborghini ha dimostrato di essere una donna sicura di sé, determinata e consapevole del proprio corpo e delle proprie scelte, senza farsi influenzare dal giudizio degli altri. Il suo messaggio è chiaro. L'importante è essere in salute e sentirsi bene con sé stessi, senza lasciarsi condizionare dai canoni estetici imposti dalla società. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti gli ultimi gossip. A presto!